Ciao a tutti, oggi vi spiego che cos'è il metodo Yamuna Body Rolling. Yamuna è il nome dell'ideatrice di questo metodo. Body rolling in sé non identifica un metodo ma un'attività che deve rotolare sul corpo. Yamuna Body Rolling è il metodo di body rolling ideato dall'amuna. Si tratta di un protocollo di esercizi specifici e mirati ed è un metodo di allenamento e autotrappamento. Allenamento perché si pratica sotto la guida di un insegnante certificato oppure autotrattamento perché si possono eseguire gli esercizi a casa e dopo avrà preso una minima informazione. Yamuna dice sempre che una sfera è semplicemente una sfera e ciò che fa la differenza è la formazione e le istruzioni che vengono date. In pratica utilizzando materiale apposito che è un brevetto. è un materiale che è ideato la stessa Yamuna conforme alle esigenze del suo metodo per cui è un materiale che serve per degli obiettivi specifici. Non è uguale a qualsiasi altro materiale che trovate nella grande distribuzione o in commercio. È composto da diversi tipi di sfere di diverse consistenze dimensioni, quindi la sfera oro, la sfera perla, argento, le due sfere nere, le sfere per il viso, queste bianche, il saber per un lavoro avanzato sul piede e per le mani e i polsi e i wakers per un lavoro, un primo lavoro sui piedi. Possiamo ottenere allungamento muscolare, aumentare la flessibilità, tonificazione, rinforzo, aumento del metabolismo, prevenzione e riduzione degli infortuni. Un esercizio in base alla scelta della sfera ha obiettivi e risultati differenti. Ora vi mostro uno degli esercizi che potete eseguire se avete dolore nella zona cervicale. Secondo questo metodo, ogni restrizzione della parte posteriore del corpo va trattata a partire dalla parte anteriore. Questo perché se la parte anteriore ha tensione e i muscoli tirano, succederà questo. I muscoli della parte posteriore saranno imperestesi, quindi per poter ripristinare l'equilibrio a livello del collo e a livello delle spalle dobbiamo necessariamente sbloccare la parte anteriore del collo. È inutile ed è parziale lavorare solo sulla zona dolorante perché il collo è a cilindro, quindi va lavorato sia nelle parti laterali che anteriori, non solo a livello delle vertebra cervicali. iniziala a Ora vi mostro uno degli esercizi che si possono fare quando abbiamo dolore a livello della parte bassa della schiena, soprattutto nella zona sacrale. Grazie per la visione! Grazie per aver seguito questi video e con la mia passione mi prenderò cura del vostro benessere. Grazie a tutti!